Un saluto dal Tg della Mobilità, sono in corso i lavori di riqualificazione del deposito trambiario di Porta Maggiore, contemporaneamente vanno avanti i lavori di rinnovo dei binari. Sino al 2 di dicembre sono previste modifiche sul servizio trambiario della città, in particolare in questa prima fase le linee 2 e 8 viaggiano integralmente su bus, ci sono navette anche per le linee 3 e 19 tra Porta Maggiore Valle Giulia e tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento, normale servizio su rotaia per i collegamenti 5 e 14.